La giornata mondiale della gioventù 2016 Ha preso il via ufficialmente ieri a Cracovia la giornata mondiale della gioventù 2016 e sono migliaia di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo giunti in Polonia per partecipare a questa 31esima edizione. Papa Bergoglio arriverà in Polonia domani e raggiungerà i giovani della GMG giovedì 28 luglio nel parco Jordan a Blonia. Ad accogliere Papa Francesco vi saranno più di 600.000 ragazzi di ogni nazionalità. Da Cracovia continua nel frattempo il diario della GMG del nostro Adam, il giovane Ravennate volontario. Ieri sera in piazza molti pellegrini sono venuti nel centro storico a pregare e festeggiare. Oggi sono iniziate le GMG, siamo a Buonia, una grande ara verde divisa in vari settori per accogliere i pellegrini provenienti da tutto il mondo. Adesso si svolgono gli ultimi preparativi e le prove per il coro. Grazie. Grazie.